Marco Nicolai, lei oltre ad essere consigliere regionale, anzi anche consigliere comunale a Pescia, sindaco di Pescia Oreste Giurlani, che è anche presidente di Uncem. Giurlani ha risposto, non ci pensiamo neanche ad abbandonare le comunità montane, alla proposta di Dario Parrini, segretario regionale del Partito Democratico, di superare le comunità montane o comunque accorparle in qualche modo ad Anci. Il tema che pone Dario Parrini è un tema condivisibile. Uncem, UPI, Lega Autonomie, Anci sono figlie di un'impostazione istituzionale che è stata superata. Le comunità montane superate, le province in fase di superamento, venendo meno tutti gli enti a cui queste associazioni in gran parte si riferivano, l'Anci può ben svolgere la funzione di unico interlocutore per tutti i comuni, sia quelli montani che non montani, sia quelli più grandi e quelli più periferici. Si tratta solo di procedere in parallelo con una revisione istituzionale che è già in atto, di fronte alla quale bisogna prenderne atto. Cercherà di far cambiare idea al suo sindaco? Insomma, conosciamo Giurlani. Il sindaco Giurlani è determinato, io spero che prenda atto di uno scenario che è profondamente mutato in questi ultimi anni, di fronte al quale dobbiamo cercare anche di semplificare, razionalizzare anche il quadro delle organizzazioni di rappresentanza. Siamo in una nuova fase e noi ci dobbiamo attrezzare per affrontare questa nuova fase, non secondo gli schemi del passato.